Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Val d'Arno in direzione Livorno. In A1 per lavori di pavimentazione, stanotte in orario 22.6, lo svincolo di Chiusi sarà chiuso in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla statale 12 della Betone del Brennero sono in corso le attività necessarie a riaprire in sicurezza al tratto all'altezza di Borgo Ammozzano, al chilometro 40 e 500 in provincia di Lucca, interessato dalla caduta di massi provenienti dal versante roccioso. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!